Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. La posa che ha dato a prendo la fronte è stata l'evento. La condivisione coraggiosa di Hande Ersel è stata apprezzata, sei caduto dal cielo? Hande Ersel, che ha recitato in molte serie tv come Central Cup, Gunnés Inckenslar, ha tolto il fiato con la sua profonda posa di scollatura. Uno dei seguaci chiese a Ersel, sei caduto dal cielo? Sono piovuti i commenti. Con Kerem Bursin sugli schermi televisivi, ha recitato nella serie tv Central Cup. La sempre più famosa attrice Hande Ersel, in precedenza aveva recitato in molte produzioni diverse come Alka, Daughters of the Sun. Ersel, che è venuto alla ribalta con la sua vita privata oltre che con la sua recitazione. Continua a far parlare di sé frequentemente con i post sui social media. Ersel, che è noto per essere nato il 24 novembre 1993 e che ha 28 anni, si è laureato alla Mimar Sinan Fine Arts University. Ha studiato presso il Dipartimento di Arti Tradizionali Turche. È noto che il nome che ha partecipato a un concorso di bellezza tenutosi in Azerbaijan nel 2012 è arrivato secondo in questo concorso. Tra gli anni dal 2015 al 2016, il nome che ha preso parte alla serie tv Gunesin Kanzler, trasmessa su Canal D. Successivamente, ha dato vita al personaggio di Hayat Wuzzu nella serie tv Asklaft & Understanding. Il nome che ha vinto il Golden Butterfly Award come migliore attrice comica femminile per il suo ruolo in questa serie. Negli anni dal 2020 al 2021, ha interpretato un ruolo nella serie tv Central Cup, che è arrivata sullo schermo su Fox. I commenti sono piovuti sulla sua posa senza biancheria intima. Il famoso nome era l'evento questa volta con la posa autunnale senza biancheria intima. Il nome, che posa in un abito invernale blu scuro e bianco, attirando l'attenzione con la sua vestibilità, ha ricevuto migliaia di mi piace dai suoi follower. Ersel, uno dei seguaci del celebre nome, quanto sei bello, sei caduto dal cielo? Sono piovuti i commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e... Non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.